Ancora Bugeia, si fa vedere Lenzini, anzi Tomaselli dentro con il destro! Tomaselli sull'assist al bacio di Bugeia dopo... ...convenzione anche destinata a spronare gli attacchi dell'Empoli. Attenzione Sassuolo che ora ha spazio con Bugeia, trova a trattenere la verità. Bugeia entra in aria, Bugeia! Ed è un gol meraviglioso, l'undicesimo in questo campionato. Via lei Bugeia al mutuo numero 48. Empoli 1, Sassuolo 3, ripartenza velocissima di Bugeia, palo al piede, che lascia... ...Cnoll, Bugeia, stop elegante al bacio di Bugeia. Anticipate la Binazzi, mette giù un pallone, Bugeia prende la mira, va con il mancino! Fabiano in qualche modo, però va a negargli la giro del gol, non è finita. Pirone raccoglie la palla al limite, Pirone si porta la palla su sinistra. Ancora Pirone, scarico per Bugeia, con il destro! Un gol incredibile di Bugeia, doppietta della Maltese al minuto numero 56. Ma che giocata! Alle Bugeia non finisce di sorprendere, al minuto numero 56. Sigla su doppietta personale. È il suo dodicesimo gol in questo campionato. Un destro da colpo da biliardo. Incredibile, Pirone che si fa largo, poi scarica. Bugeia apre il destro in maniera chirurgica. Cala così il poker, il sassuolo, alla 55esimo minuto. Sempre lei. Alle Bugeia!